E lì è l'argo Allora andiamo dall'altra parte dove c'è la terra A Torri Pende Per paura di non trovare un'altra che mi desse Quello che mi davi tu, che avevi tu 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 Nel cammino qui abbiamo trovato un antico palazzo Un grande giardino qui Conosciuto come Arsenale E questa parte qui è la cittadella vecchia Cittadella vecchia E noi siamo ora nella piazza di Terzanaia Che cosa c'è qui di bello? Vedete che oggi, giorno 2 gennaio Sono le 8.19 Ancora non si vede nessuno qui Vedete perché si chiama la cittadella vecchia Da questa parte si può vedere e perché È una parte qui riservata Sembra che di là Non si può entrare Però ancora ci sono le mure Di questa cittadella Le ruine E da questa parte anche può vedere Queste ruine Qui è più vicino Noi andiamo di qua Per mostrare a voi È protetto dalle correnti Un bel posto Anche lì Dopo vediamo che l'ha fatto Non ti posso cercare più Non ti posso trovare qui Non ti posso cercare più Non ti posso trovare qui Non ti posso cercare Non ti posso cercare più Non ti posso trovare Non ti posso trovare qui No, 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 no. l'ospedale di santa chiara qui a pisa tutto che vedete là al fondo sono cliniche universitari e l'ospedale di santa chiara come gli altri ospedali dell'italia perché non lo sa cosa è un ospedale dove si portano le persone ammalate è tutto questo e si vede là al fondo è molto grande molto grande molto grande e sono tutte pubbliche anche qui quando si sta male si fanno la medicina senza problemi l'attesa non è tanta sono pronti ad aiutare le persone anche i stranieri e questo è un vantaggio qui dell'italia l'attendimento delle persone è molto buono anche le scuole pubbliche sono tutte pubbliche non ci sono scuole private qui l'italia guardate tutto l'ospedale anche insieme a questo ospedale è una clinica universitaria la colazione ogni mattina da una vita semplice fino al fondo siamo noi nella via Roma tutto questo fa parte ancora dell'ospedale che abbiamo cominciato a vedere qui è l'istituto di medicina legale se ci penso ora università di Pisa facoltà di medicina e chirurgia e se continuiamo qui nella via Roma fino al fondo sarà l'ospedale e quando finisce l'ospedale comincia a Piazza Duomo Piazza dei Miracoli scusate dove c'è il Duomo che già possiamo vedere da questa parte là al fondo e dietro all'alberi possiamo guardare la parte superiore della torre pendente la torre di Pisa guardate qui questo è l'ospedale tutto questo ci avviciniamo adesso al Duomo dobbiamo andare in fretta per non perdere tanto tempo e neanche il caricamento della nostra batteria della macchina semplicemente ah qui già si può vedere bene guardate là la torre pendente e al fondo il Duomo già qui nella Piazza dei Miracoli ora stiamo guardando le mure che contornavano la città di Pisa questi sono muri molto antichi che proteggevano la città e la maggior parte di questi muri è ancora conservati siamo qui davanti al Battistero direto a questi muri lì dove ci sono quelle alberi è il cimitero israelitico qui il Battistero andiamo più avanti la chiesa di marmori bianchi questo qui dietro ancora fa parte dell'ospedale qui dove stiamo andando è conosciuto come la piazzetta del leone non ho visto ancora nessun leone